Grazie a tutti di essere qui questa sera. Abbiamo voluto invitare tutte le associazioni e tutti i cittadini comitati, i sindaci e gli assessori del Sudes Milano, perché crediamo che questo sia un giorno importante, che dia degli spunti per costruire un bilancio partecipativo diverso, io vorrei dire un bilancio compartecipativo. Abbiamo voluto quindi invitare anche le aziende e le banche e questa sera avrebbe dovuto esserci qua il dottor Filippo Petrolati della nascente Fondazione di Comunità, che ha avuto un imprevisto e quindi sarà in sua vece qui che ci dirà due parole Gabriella Gemmo. Sì, come anticipato io rappresento Fondazione di Comunità Milano. La Fondazione di Comunità Milano è un ente che si è recentemente costituito, fa parte del progetto delle fondazioni di comunità avviato nel 1999 da Fondazione Cariplo, che ha costituito sul territorio Lombardo, più le province di Novara, Verbania, Cusiossola, 15 fondazioni di comunità e la settimana scorsa noi ci siamo presentati ufficialmente, e quindi siamo la sedicesima fondazione di comunità. In questo percorso Fondazione Cariplo ha negli anni appunto costituito queste fondazioni sul territorio con l'obiettivo di creare delle realtà che potessero essere proprio vicine alle esigenze dei diversi territori. L'ultima, siamo noi, comprende la città di Milano e il sud-ovest e il sud-est e l'adda martesana della città metropolitana. Nella città metropolitana sono già presenti altre due fondazioni di comunità, una che comprende il nord, quindi tutta l'area che va dal Rodense fino a Sesto San Giovanni, Cinisello, Cologno-Monzese, e l'altra che comprende tutta l'area ovest, quindi Ticino-Lona, tutto il percorso del Ticino. Due parole veramente poi lascio alla vostra serata, appunto mi scuso da parte del dottor Petrolati che purtroppo ha avuto un inconveniente essendo fuori per lavoro e non è riuscito a rientrare in tempo. La fondazione di comunità è un'entità un po' particolare, non so se voi ne avete mai sentito parlare, se conoscete queste realtà siamo ovviamente una onlus, un ente filantropico che di fatto si mette a disposizione del territorio su cui opera e l'obiettivo è quello di portare un contributo di risorse ma anche di energie, di idee e di idee e quindi con la volontà di confrontarsi e di collaborare con tutte le entità che operano su questi territori. Ovviamente la fondazione ha degli obiettivi importanti di raccolta, di raccolta perché l'idea è quella di costituire un patrimonio della comunità attraverso il meccanismo della sfida. Il meccanismo della sfida funziona in questo modo, ogni euro che la comunità potrà raccogliere sul territorio e saprà raccogliere sul territorio, Fondazione Cariplo ne metterà a disposizione altri due. Quindi significherà costituire, se saremo molto bravi nel giro di 5 anni, un patrimonio di 15 milioni di euro perché l'obiettivo che ci siamo dati è di 5 milioni di euro in 5 anni. Quindi questo sarà un patrimonio che è a disposizione dei progetti della comunità, di quelle che sono le sue esigenze per fare fronte a tutte quelle che sono le progettualità che la comunità ritiene importanti. La fondazione di comunità però è anche un ente che sostiene le progettualità che nascono dal basso, che vengono dal territorio e quindi dal prossimo mese noi lanceremo il nostro primo bando che di fatto interesserà i territori della città e del sud, sudest, sudovest e dell'Adda Martesana. È un'iniziativa, è un progetto molto complesso e noi siamo abbastanza convinti di questo progetto ma anche seriamente impegnati a far sì che abbia successo e che possa essere una risposta veramente anche a creare delle condizioni migliori delle nostre comunità. Quindi ogni iniziativa come quella di stasera che voi state portando avanti sicuramente saranno per noi anche una fonte, uno spunto per avere appunto stimoli per portare avanti i progetti. La fondazione di comunità non era ancora nata, si è costituita attraverso un percorso abbastanza complesso con un comitato promotore che l'ha portata avanti, però ha voluto dare un segno concreto del suo impegno e abbiamo già avviato un primo progetto, un progetto che noi diciamo è emblematico e che è partito da Milano, inevitabilmente siamo partiti da lì perché è il punto di partenza. Il primo progetto è quello dei parchi giochi per tutti, che cosa vuol dire? Ci siamo posti l'obiettivo di realizzare almeno in ciascuno dei nove municipi milanesi poi mi fa piacere poi se ci sarà il presidente del municipio 2 Piscina salutarlo perché abbiamo incontrato appunto tutti i presidenti dei municipi milanesi per partire con questo progetto il primo parco accessibile e inclusivo realizzato in collaborazione col comune di Milano, siamo partiti dal parco Montanelli partendo non perché fosse il centro di Milano ma perché era anche un rappresentativo di un'attenzione specifica su questo tema ma il prossimo parco a cui stiamo già lavorando sarà proprio nel municipio 2 quindi interessa proprio il presidente che sarà qui stasera però ovviamente il nostro obiettivo è quello di essere presenti su tutto il territorio e quindi sicuramente l'attenzione sarà quella di cogliere tutte le istanze che vengono anche dal sud est come qui e poi gli altri territori del sud ovest e della da Bartesana io appunto vi porto i saluti del dottor Petrolati che è il direttore generale della fondazione e del presidente che è Giovanni Azzone che conoscerete come ex rettore del Politecnico e quindi mi fa piacere di avervi incontrato e ci saranno sicuramente delle prossime occasioni per proseguire questo confronto. Grazie